L'hanno ritrovato steso a terra con la siringa ancora conficcata nel braccio. Alle otte e mezza di stamattina alcuni passanti hanno notato lungo la bonifica all'altezza di zona Valle Cupa di Colonnella un'auto con uno sportello aperto e a terra un corpo esanime. Subito sono stati allertati i soccorsi ed in breve è giunta sul posto un'ambulanza del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Stefano T., avvocato san benedettese di 39 anni, era già morto da oltre un'ora, stroncato da un overdose di roina. La vittima è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Sant'Omero. L'uomo da anni lottava per uscire dalla schiavitù della droga, alternando fasi di dipendenza a momenti di lucidità che gli avevano concesso di condurre per un po' un'esistenza normale. Stefano aveva terminato gli studi, conseguendo la laurea in giurisprudenza e dal 97 era iscritto all'albo degli avvocati di Ascoli. Aveva uno studio in via Abruzzi a San Benedetto, ma da tempo sembrava non avere troppi clienti. Colpa dell'eroina che non gli permetteva di concentrarsi, come avrebbe dovuto, sul suo lavoro. Molti lo ricordano come un frequentatore abituale della biblioteca comunale, dove soleva trascorrere le ore a navigare online, leggere giornali e studiare qualche causa. Era un avvocato civilista, esperto in diritto di famiglia e risarcimento d'anni. Viveva con la famiglia in un'abitazione di Viale dello Sport e ultimamente la sua dipendenza sembrava si fosse acuita, tanto da spingerla a farsi anche di prima mattina, proprio come accaduto oggi. Una tragedia annunciata che ha scosso la comunità san benedettese, dove Stefano era molto conosciuto, anche perché la droga non era riuscita a spegnere la sua voglia di vita ed il suo sorriso.